I finanzieri di Bari hanno intercettato un'autovettura contenente 80 kg di tabacchi di contrabbando, quasi sicuramente destinati al mercato locale presso il casello autostradale di Bari Nord. Nei guai è finito un ultra settantenne baresi alla guida di una vecchia autovettura station wagon, dove erano state occultate 400 stecche di sigarette di contrabbando ordinate in vari scatoloni. L'uomo con qualche precedente specifico di polizia ha giustificato il trasporto ai militari affermando che aveva la necessità di aumentare le proprie entrate. Al termine delle operazioni le sigarette di contrabbando sono state sottoposte a sequestro assieme all'auto utilizzata ed irresponsabile denunciato a piede libero per contrabbando. Sono in corso le indagini per individuare i destinatari del carico ed il canale di approvvigionamento.